E adesso preparatevi perché entreremo in queste stanze segrete della casa di Rod ed entreremo anche dentro il contenitore speciale Carissimi amici, è arrivato PaninoTube e oggi torniamo qua su Ice Cream 5 perché oggi voglio fare una cosa molto particolare, anzi due cose faremo Nella prima parte scopriremo che cosa c'è dentro il contenitore del gelato speciale di Joseph, il padre di Rod Nella seconda parte invece esploreremo le stanze che sono nascoste all'interno della casa di Rod Non so se vi siete accorte, quando siamo entrati dentro la casa di Rod c'erano delle stanze chiuse E oggi proveremo ad entrarci, quindi che dire partiamo subito, ma come sempre lasciate qui sotto tantissimi like Se like che lascerete sarà per il personaggio associato a voi sarà Rebecca, la figlia di Mr. Meat Se invece like sarà Dis, per il personaggio associato a voi sarà Jay Fatemi sapere qui sotto nei commenti a quale personaggio siete associati Iscrivetevi al canale con la campanella attiva, così anche voi farete parte della PaninoFamily Ma adesso partiamo subito, cominciamo, tocchiamo subito gioca Partiamo qua, ma sì direi anche di fare in facile, giusto per divertirci un po' con il nostro caro gelataio, no? No, perché poi in fantasma è pure un po' noioso lungo andare Almeno quando il nemico ci può vedere diventa anche più divertente, no? Ed eccoci qua, partiamo subito con una nuova avventura Ok, allora trovo un modo per comunicare, sì sì, sempre le solite cose Sappiamo già come comunicare, c'è un telefono Per fortuna Rod si è munito di telefono, meno male Adesso però per prima cosa dobbiamo aprire la porta chiusa con il lucchetto magnetico Quindi dobbiamo trovare la batteria Ah boh, a posto, l'abbiamo già trovata Ma che bello, abbiamo già trovata la batteria No, di solito sta cosa io ci metto le ore a cercarla, a trovarla Ci metto sempre le ore E oggi invece ce l'abbiamo fatta subito Adesso non voglio sbagliare direzione, quindi Direi di andare di là, ma proprio dove c'è il mini Rodino E vabbè, ho capito, devo farmi il giro Devo farmi il giro se non voglio beccarmi il mini Rodino Andiamo, andiamo, andiamo Veloci, veloci, veloci Andiamo da questo lato, metti qua la batteria Ok, adesso tira la levetta Vai personaggio, così già questa prima parte Per fare la pistola microonde L'abbiamo fatta, l'abbiamo completata Perfetto, prendiamo quella batteria Carica, via, via, via No, no, non voglio farmi prendere dei mini Rod Voglio cercare di farcela senza farmi vedere dei mini Rod Però se sti cosi si piazzano ovunque Ovunque io vada, sempre che me li trovo Sti qua Eh, che roba, mini Rodini Eh, che roba Adesso, mettiti qua a disegnare il progetto Velocemente, così già che ci siamo Lasciamo la batteria qua dentro Velocemente Ok, mini Rodino sta per arrivare Via, via, via Apri qua Vediamo qua se troviamo subito il coso di legno Sì, non ti bloccare, niente Niente coso di legno Quindi me ne scendo direttamente Sicuramente si trova qui sotto Quindi apriamo questo sportello Su, veloce, veloce E apri, su Eh, che roba Qui è vuoto Vuoto Qua dentro Vediamo se qua dentro sta il coso di legno E neanche qua dentro E dove me l'hanno messo? Dove me l'hanno messo? Oh Trovato subito Perfetto Adesso ce ne usciamo subito qui fuori Ok Mini Rodini Siete di qua Io mi guardo intorno Mi guardo intorno Che sti cosi me li trovo sempre dietro l'angolo Ecco, vai via, mini Rod Entra pure lì dentro Io me ne vado di qua Ciao, ciao, ciao Ciao È stato un piacere È stato un gran piacere E non mi ha visto In tutto ciò non mi ha visto Meno male Tanto adesso farò un rumore Lo farò in questo modo Quindi Rod mi vedrà Cioè mi raggiungerà Perché sto praticamente letteralmente Lanciando un forno a microonde Così dal balcone E più rumore di così non si può Andiamo, andiamo, andiamo Però secondo me Sapete cosa si poteva fare con questo gioco? Bisognava mettere che Rod Comunque girasse per la fabbrica Anche quando non c'è il rumore del mini Rod Quando non ci sono rumori Il Rod sta a riparare il furgone E sta cosa comunque rende pure più facile il gioco Lo rende più facile Invece se lui può girare liberamente per la fabbrica E bisogna fare più attenzione Bisognerebbe fare molta più attenzione Abbiamo fatto rumore Adesso scendiamo subito sotto E prendiamo quel trasformatore Prendi qua Veloce, veloce Trasformatore preso E adesso allontaniamoci Perché il Rod sta per arrivare Arriverà molto, molto, molto presto Andiamo di qua Veloce, veloce Dove sta il coso? Dove si trova? Ah, di là sta il banco da lavoro Ok Andiamo subito di qua Velocemente Montiamolo Così abbiamo già La pistola a microonde Apriamo la porta E poi possiamo fare tutte quante le varie cose Perfetto Vai, vai, vai Monta tutto La nuova pistola a microonde Pronta Ormai non c'è più bisogno del forno a microonde Abbiamo la pistola a microonde Che ci salva Ok Shotta qua No E shotta bene Shotta bene Perfetto Adesso Prima di andare ad aprire quella porta Andiamo a vederci il primo filmato Quello dove il Rod mangia il cibo E niente C'è suo padre Vabbè avete capito di quale filmato sto parlando Andiamo, andiamo, andiamo Scendiamo Velocemente Andiamo a scendere da questo lato Corriamo, corriamo, corriamo Perfetto Entra qua dentro Entra dentro questa porta Adesso Parliamo al telefono E diventiamo Jay Vai, cambi di personaggio Jay È arrivato il tuo turno È arrivato il tuo turno E devi andare a vedere il primo ricordo Quello legato appunto con la scatola dei gelati Andiamo di qua Velocemente Andiamo, andiamo, andiamo Apri qua la porticina Apri di qua Apri ancora di qua E andiamo a vedere il primo ricordo Aiuto il mini Rod No Ok È stata cosa dei ricordi Alcune volte mi compara Alcune volte no Ok Aprile 1953 In questo filmato possiamo vedere Rod Che sta mangiando È data mangiare pure al mini Rod Vai Ha 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 Nel video di ieri abbiamo fatto la cosa inversa Siamo andati prima nello scenario del filmato E poi abbiamo visto i filmati Oggi invece facciamo un'altra cosa Prima vediamo i filmati Dopodiché andiamo negli scenari E vediamo se sono comparse Gli elementi che ci sono appunto all'interno di questo scenario Ok Guardiamo il filmato fino alla fine Per evitare che le cose vadano dispersa Qui All'interno del filmato Compare una scatola Una cassetta Con tutte quante le varie chiavi E lì dentro c'è una chiave Molto importante Molto fondamentale La cosiddetta chiave Che serve appunto Per poter aprire Il contenitore segreto E qui C'è Rod Che dice Diventerò anch'io un gelato migliore come te Un bravo gelataio E poi qui dice Quando è che potrò mangiare uno di quei gelati Ho lavorato abbastanza No Rod Non devi mai mangiare quei gelati speciali Però molto presto ci arriviamo Ci andiamo Meglio che ti sbrighi a vestirti Per andare a scuola E intanto qui c'è Joseph Che ti prende le chiavi Ha preso la chiave rossa E la cosiddetta chiave Per aprire la scatola del gelato speciale Ma quella chiave rossa Guardate poi bene che cosa farà Rod Joseph La perderà Joseph perderà la chiave rossa addirittura Nooo Ma Joseph potevi fare un po' di attenzione Così Rod non si mangiava il gelato E non succedeva nulla di tutto C'è via 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 Mamma mia Mamma mia il mini Rod Mamma mia il mini Rod Allora Andate qua adesso Apri quella porticina Perfetto E adesso andiamo a vedere il secondo ricordo Parla qui al telefono Velocemente Cambi di personaggio Ci ritroviamo di qua Apri la porticina E adesso andiamo a vedere il secondo filmato E vediamo se poi è cambiato qualcosa Quando noi ci ritorniamo Velocemente Saliamo di qua Fortunatamente sono armato di pistola a microonde Così se viene qualcuno a darmi fastidio Sono bello pronto Bello pronto Dove? E infatti meno male Meno male Ricarichiamo Sciottiamo Via Ok Mamma mia Rod Mamma mia Ma tu non eri andato dall'altro lato C'era il mini Rod Che ha fatto rumore di là E tu te ne vedi qua Ok ok Scappiamo 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 Chiudi la porta Anzi Guardiamoci Il ricordo Cosa? Non mi fa vedere il ricordo Ok No guardate Non me lo fa vedere Non mi compare qua la cosa del ricordo Ma perché non me lo fa vedere? Seriamente Perché? Ok Ho dovuto rifare la partita Perché non mi compariva qui il ricordo Ma si può che devo rifare quale partita Perché non ricompaiono i ricordi Ma che roba è? Va bene Qui c'è comunque questo filmato Dove c'è Rod Tutto quanto contento Di andare nella Igole School Questa è la mia scuola La mia amata scuola La nostra foresta Verdeggiante Accarezzata da un fiume Lussureggiante Bravo Rod Sei pure un poeta Respiro profondo L'Igole School La scuola dove lavora pure Evil Nun Cosa faremo oggi in classe? Voglio studiare le piante E gli animali Cioè guardate Proprio contento Felice di andare a scuola I frati della mia scuola Hanno tanto da insegnarmi Sì Peccato che poi tutti sti frati Vabbè sappiamo che fine fanno Perché gli adulti sono così seri? Mmm Eh Rod Guarda Te da adulto sarai peggio di una persona seria Ti avviso già Da grande anch'io sarò grosso e pelato Sì Come Mr. Meat Diventerò una persona importante? Lo spero E mi spiace Rodino Io So già il tuo futuro Non sarei nulla di tutto ciò A volte cerco di ricordare mia madre Ma non ci riesco E chissà perché Chissà perché Rod Non riesce a ricordare sua madre E qua E ora cosa succede? Lui si alza Guardate lì C'è la chiave di Joseph Che è rimasta lì a terra E adesso noi andremo qua All'interno di questo filmato All'interno dello scenario E vedremo se potremo avere La chiave di Joseph Ok adesso ce ne usciamo subito Via 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 Apri quella porta Perfetto Scappiamo Ce ne andiamo subito sotto E facciamo il cambio di personaggio E questa volta lo faremo Con il bug Che ci permetterà di volare Perché è l'unico modo Per poter raggiungere appunto La parte segreta La zona segreta della mappa Ok Saliamo di qua Usiamo il bug in questo modo Ok adesso Prendiamo qua Fucile elettrico Portamelo Ok adesso ci ritroviamo Qua guardate Sto volando Siamo tornati con il bug volante Con questo bug Comunque ho pure scoperto Altri segreti Strani Che mai uno si sarebbe immaginato Qui su Ice Cream Quindi molto presto Li andremo a vedere Ok Passiamo qua all'interno del tubo Velocemente Su Muoviti personaggio Dai Chi siamo arrivati qua Della parte inferiore Della fabbrica Apri quella porticina Perfetto Perfetto Saliamo di sopra Muoviti 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 Bravissimo Jay Bravissimo E adesso dobbiamo uscire Come le altre volte Fuori dalla mappa E andando Dall'altra parte opposta Dove si trova Lo scenario Della mappa segreta Via Muoviti Muoviti Sì però Devo dire che è un po' lento Quando fa sta parte È un po' lento Ci vuole un po' di tempo Un po' di pazienza Infatti mi sa che Alcune parti le taglierò Perché sennò ci metteremo una vita Sto video diventa lunghissimo E andiamo dritti di qua Vai Ah comunque Già che ci sono Mentre me ne vado di qua Voglio darvi pure Una notizia molto importante Mi raccomando Fra pochi giorni Ci sarà un nuovo video Dedicato ad Horror Brawl Dove vi darò Un grande annuncio Un annuncio molto Molto importante Mi raccomando Non mancate Riguarderà principalmente A Scream E Mr. Meet Questo annuncio Quindi veramente Non mancate Adesso però Cerchiamo di andare fuori Senza problemi Aspettate Che io già qui Mi perdo l'orientamento Ok Andiamocene sempre dritto Dietro Guardando continuamente La maschera Mi raccomando Guardatela sempre Per non perdere l'orientamento Una volta che siamo Proprio Già usciti Molto lontani Possiamo girare la testa Fino a quando Non compaiono i tubi In quel caso Useremo poi i tubi Come riferimento Per poterci muovere Senza perderci Dai muoviti personaggio Muoviti Esci 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 Dai Mamma mia Mamma mia Quanto tempo ci mette Io sto facendo La barba bianca Nel frattempo Sto diventando Il nuovo babbo natale Nel frattempo Che sto coso esce Ma insomma Ma che roba Ma che roba Da babbo natale A babbo panino Anzi Da panino tube A babbo panino E un attimo Su dai Ancora sta parte di tubi Vabbè Facciamo una cosa Ci vediamo direttamente Quando sono uscito fuori Quando ho raggiunto L'altro lato della mappa Ok Ce l'abbiamo fatta Abbiamo raggiunto Finalmente la casa di Rod La casa di Rod Quando era piccolo Vediamo innanzitutto Se è comparsa la chiave Se sono comparsi Tutti quanti gli elementi Del filmato Così magari possiamo Provare a raccoglierli Forse se c'è la chiave Possiamo aprire Il contenitore Del gelato segreto Allora Qui c'è tutto quanto Il posto L'ambiente Però non noto Delle chiavi Purtroppo La chiave non è stata lasciata Anche in seguito del filmato No Sono stati tolti gli elementi Perché Peccato Ma non vi preoccupate Non vi preoccupate Perché comunque C'è sempre un bug Che ci permetterà di Vedere che cosa c'è lì dentro Di entrare dentro Il contenitore segreto Del gelato Comunque Lì dentro sappiamo bene una cosa Sappiamo bene che È custodito Il gelato speciale Di Joseph Su Screen 2 C'è un filmato appunto Dove Rod dice Ma perché tutti quanti Mi prendono in giro Perché sono così Perché sono diventato Un chubby boy Eppure Ho soltanto mangiato Un solo gelato speciale Di mio padre Uno E ho mangiato soltanto uno E dal Rod magro Che abbiamo visto È diventato quel chubby Rod Che poverino Poi veniva pure preso in giro Da tutti quanti gli amici A me sta cosa Ti spiegava davanti un sacco Perché qua Vedere i filmati Del passato di Rod Cioè lui era un bambino Pure felice Allegro Generoso Buono Voleva fare del bene E invece poi è diventato Un gelatoio cattivo Tutta colpa di sto gelato speciale Tutta colpa di sto coso Guardate qua Qui dice Don't touch E io invece tocco il come Tocco il come Lo distruggo pure Ci metto pure le trappole Tutte le trappole ci metto Guardate qua Guardate qua quante trappole Che ci metto Guardate E ora sciottiamo Distruggiamo tutto Tutto quanto Ma che roba Distruggo il gelato speciale Di Joseph Comunque Guardate pure bene di qua Cosa notare che in questa casa Ci sono altre stanze segrete Adesso preparatevi Perché entreremo in queste Stanze segrete Della casa di Rod Ed entreremo anche dentro Il contenitore speciale E adesso via Da questo lato Allora per poter Far sta cosa qua Sfrutteremo un bug Che ci permette Di entrare praticamente Da sotto la mappa Così Adesso ne scendiamo Dopodichè saliamo In questo modo ci ritroveremo Nella parte segreta Della casa Questo bug funziona Ovunque In qualunque parte Nella mappa funziona Noi possiamo scendere così Dopodichè possiamo risalire E ritrovarci dove vogliamo Qui sotto Siamo praticamente Sotto praticamente La casa di Rod Possiamo notare che ci sono Delle stanze segrete Come ad esempio questa E quindi entriamoci Subito Ok Siamo praticamente adesso Dentro la stanza segreta Della casa di Rod Qui ci sono delle stanze Chissà che cosa Raffigureranno queste stanze Chissà che cosa c'è Beh dopo tutta una stanza Da letto Dovrebbero pure averla Se no dove vanno a dormire Questi qua Dove dormono Così in cucina Vanno a dormire Vabbè Lasciamo perdere E adesso invece Vediamo che cosa è custodito Che cosa è nascosto Dentro il gelato speciale Tra l'altro voglio pure Vedere una cosa Ma di qua Questa è la porta di uscita Ma Quindi allora Qui c'è tipo una sorta Di rientranza In questo modo Cos'è questo allora Tra l'altro Che cosa mi raffigura St'altra porta verde Non lo so Vabbè magari lo scopriremo Nei prossimi video E adesso invece Entriamo dentro il contenitore Del gelato speciale Sali 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 Veloce 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 Andiamo di qua Entra qui Usciamo di nuovo fuori Dalla mappa Andiamo di nuovo sotto E adesso poi risbucchiamo Direttamente Di sopra Ecco qua Siamo di nuovo qua sotto Siamo scesi Nel fondale Della mappa di rod Qua Siamo sotto la casa Del gelataio E adesso risaliamo Allora troviamo Quel punto giusto Perfetto Ecco qua Questo è il contenitore Siamo dentro il contenitore Del gelato speciale Di rod Ma andiamo qua Mettiamo pure tante trappole Aspettate Io se mi accascio così Tecnicamente Potrei mettere le trappole Qua dentro No non posso lasciarle Non me le fa mettere Guardate qua Siamo dentro il contenitore Del gelato speciale Solo che qua Non si vede nulla Quindi a quanto pare Le cose sono due Oh rod Se le ha mangiate tutti Oppure ovviamente Non le hanno inserite Perché non aveva senso Metterli qua All'interno del filmato Va bene Comunque nei prossimi giorni Preparatevi Perché farò un ulteriore approfondimento Su questi gelati speciali Di Joseph Sullivan E di rod Quindi che dire per il momento Direi di finire quel video Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video Ti sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Sparicciate Che dividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Perciò che andiamo al prossimo video E come sempre Vi auguro Buona giornata 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 Buona giornata